In porta giocabbiati Terzino destra Abate, Zapata, Iepes centrali, terzino sinistra Antonini Strasse, Flaminini, Emanuelson, Robigno, Bogia e Pazzini Montari è rientrato ieri con la squadra Vediamo l'evolversi della partita Però sta discretamente bene Ed è importante riaverlo al 100% perché diventerà un giocatore Dall'inizio del nuovo anno fondamentale Innanzitutto per noi quest'anno è un obiettivo importante Poi in due anni abbiamo perso una semifinale col Palermo In modo un po' rocomambolesco E tra l'altro abbiamo giocato la semifinale di ritorno Dopo aver vinto lo Scudetto E quindi sicuramente mentalmente abbiamo lasciato qualcosa sul campo L'anno scorso abbiamo perso una semifinale contro la Juventus Dopo aver giocato una grande partita a Torino Quindi quest'anno tra l'altro se passiamo il turno Credo che rincontreremo la Juventus nei quarti in una partita secca Anche se la Juventus è da giocare stasera contro il Cagliari E quindi abbiamo il dovere di farlo Che Rubinio abbia degli estimatori in giro per il mondo Credo che sia una cosa normale Rubinio è un campione, un giocatore straordinario Credo che anche il gol che ha fatto domenica Non tanto per il gesto tecnico Ma soprattutto per la finta che ha fatto E quindi credo che sarà un giocatore che rimarrà al Milan Sarà un giocatore importante nella seconda parte della stagione Dispiace per De Jong perché tra l'altro è stato un giocatore criticato all'inizio Dicevano che non poteva giocare davanti alla difesa Invece ha dimostrato nelle ultime partite Che lo poteva fare, l'ha fatto molto bene Aveva bisogno di capire un po' il calcio italiano Di conoscere i compagni e sicuramente di adattarsi in una posizione Dove lui non aveva mai giocato Però come caratteristiche e qualità Non avevo nessun dubbio che lui potesse giocare davanti alla difesa E abbiamo subito una grossa perdita